l'intervista al mister è offerta da health poliambulatorio è il punto di riferimento a piacenza per la tua salute ambulatori di medicina specialistica osteopatia fisioterapia una piscina e una palestra health e medical partner del piacenza calcio health medical punto it autorizzazione sanitaria numero 919 direttore sanitario dottoressa giuliana rapacioli grazie per la linea andrea siamo qua con mister parlato 4 a 0 direi il miglior esodio che potevi pensare anzi forse ben oltre questa è una cosa che tante volte quando si rompe l'uovo di pasqua non si sa cosa esce dentro io ho chiesto equilibrio avevo chiesto di far valere le nostre le nostre qualità sicuramente nei primi dieci minuti c'è stato un momento di conoscenza delle due fasi non era facile anche perché era un centrocampo nuovo inventato in cinque giorni ed era anche normale che loro potessero avere delle difficoltà tattiche nei primi dieci minuti sicuramente abbiamo secondo me messo a conoscenza di come dovevamo giocare poi io dalla panchina cercava un attimino di aiutarli su cosa fare su cosa non fare poi dopo sono andati sono andati lisci come l'olio ecco torniamo un attimo indietro a parte che io in cronaco ho detto che dopo che job ha cominciato a capire la posizione della squadra ha fatto il cambio di qualità più o meno quello che mi stai dicendo tu cioè questi dieci quindici minuti in cui bisognava conoscersi stesso anche una santarpia e anche santarpia ecco il 433 iniziale è diciamo una necessità in base a quello che avevi o è un'idea tattica che può lo vedremo più avanti oggi è stato questo però oggi non potevi che far questo in teoria no potevo fare anche altre cose però questo siamo stati bravi e fortunati a utilizzare questo vestito tattico in base a chi era disponibile e loro l'hanno interpretato bene dopo un dieci minuti di assestamento in futuro non lo so certo una linea 4 difensiva che si è vista molto chiaro sia in fase di possesso che in fase di non possesso il prato non ti veniva a cercare quindi trovavi spesso e volentieri sugli esterni soprattutto su argint una squadra che nel primo tempo ha segnato con una bellissima azione un po' fortunata nella deviazione ha avuto altre iniziative però il primo tempo è stato un po' di studio dal secondo tempo in poi non c'è più stata partita allora sì parte i primi dieci minuti poi abbiamo incominciato a prendere campo ci siamo avvicinati agli avversari abbiamo incominciato a spingere un po' di più eravamo un po' più corti e un po' più alti rispetto all'inizio siamo riusciti a fare gol e diciamo che la testa ha incominciato a lavorare in maniera positiva più consapevole ognuno di loro e ci scontravamo secondo me sulla tre quarti campo dove tante volte ritardavamo il passaggio abbiamo perso alcuni palloni sull'ultimo passaggio dietro a parte il calcio d'angolo che hanno fatto un bel tiro al volo non ho visti non ho viste difficoltà tranne qualche cross che andrò a vedere poi io credo che il secondo tempo sicuramente il calcio di rigore abbia dato la svolta mentale a tutti i ragazzi ha dato più consapevolezza ha dato quella gestione in campo con più razionalità più equilibrio e il terzo gol l'ha aumentata ancora di più e il quarto gol ha fatto in modo di portarli in una partita gestionale ad un certo punto quando è uscito Solerio ma avrei porre che fosse fatto male oppure voleva lui aveva un problemino un problemino fisico e quindi tra virgolette ho fatto in modo di non andare ad appesantire questa cosa ma è giusto anche un attimino valutare anche tutti gli altri perché come ti ho detto in panchina ci sono ragazzi che comunque meriterebbero di giocare ecco io con Iob sono visto male sei andato scusami con del dotto sei andato cinque hai abbassato Iob sì a quel punto a quel punto è giusto creare quella superiorità numerica dietro e fare in modo di lasciare sempre i tre attaccanti perché volevo i tre attaccanti esterni che non ci abbassassimo e che eventualmente su ripartenza potevamo trovare gli spazi per far salire la squadra in avanti ma è sorpreso nel senso che ultimamente avevamo visto meglio il napoletano di Argint e invece è andato molto bene partita e l'azione del primo gol ma tutti e due tutti e due sono in competizione sono due ragazzi giovani e sbagliano e corrigiamo i loro errori e chi chi assorbe di più ha più possibilità di giocare se ti dico che Sartore può e deve fare meglio per me ha fatto un ottimo lavoro di sacrificio dobbiamo servirlo meglio abbiamo servito meglio Mauri meno lui un motivo c'è e me lo tengo per me so dove devo lavorare però anche lui ha fatto un lavoro di grande sacrificio ovviamente non sei un mago questo lo sapevamo già e lo sai anche tu però in cinque giorni sei riuscito a dare una serenità a questa squadra che soprattutto si è vista dopo il secondo gol però c'è dimmi qualcosa ti dico che aspetto i ragazzi a Ravenna e poi dopo ne parliamo grazie linea che torno allo studio